vai andiamo andiamo avanti con la prossima chiamiamo Nancy Bosco applauso io 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 e allora vai con la frase leggiamo la tua frase Unicef voglio ringraziare l'Unicef per questa opportunità che ci ha dato spero che anche altri ragazzi avranno questa opportunità vi vorrei dare tanto per aiutarvi ma nel mio piccolo non posso fare altro che cantare e strapparvi un sorriso e auguro tanta forza ai volontari dell'Unicef che si prendono cura di questi bambini bravissima bravissima senti Nancy quanti anni hai? quattordici quattordici complimenti e ci canti un tuo inedito vero? sì sì la canzone scritta da me è come si chiama? il male che ho dentro allora ci facciamo un in bocca al lupo e un applauso a Nancy che mi dicevano che tutto andava bene sentire il cuore a pezzi per tutti questi disprezzi ho fatto sempre la brava non ho fatto mai sentire alle persone quello che ho passato ma adesso basta li metto seduti l'imbavaglio li faccio sentire i dolori della mia vita è quello che ho passato la mia infanzia non la ricordo il male l'ho scurato il giorno del mio compleanno è che fosse un giorno nuovo e diverso invece è stato come tutti i giorni in cui mi occhi aperti convivere con l'amore di me stessa non sentisco amata è diversa ringrazio le persone a me è caro il ricordo di sta vita che non a merda vorrei ricominciare a spezzare e ridere vorrei dall'unzienza tutto questo disprezzo verso me verso te verso noi verso questa società che va a pezzi e voglio ancora un'altra volta sfogare la mia rara giudare in faccia sta gente che che mi maltratta vorrei fare troppo darei forse un posto a tutto questo male che ho dentro e vorrei ancora i segni sulla pelle non vanno via per niente dimenticare difficile è vero è come raccontare una storia nuova riparto sei anni fa incominciò l'inferno le grida le mani i ripari parole pesanti contro le pareti i movimenti i movimenti le discrete le litigate con Obama hanno insegnato che nella vita non ti profiterai nemmeno delle persone che conosci se mia mamma lo risente non lo dico ma si sente i suoi occhi in questo mondo in questo mondo di malinconia e vorrei e i miei più sinceri complimenti perché indipendentemente dalla canzone che non devo giudicare io però credo che una ragazza di quanti anni quattordici anni che ha creato da zero una canzone cioè ha creato melodia arrangiamenti parole testo e tutto da sola cd base composizione testo tutto signori un applauso davvero complimenti